Ben trovati a filo diretto con il Consiglio regionale della Campania. Questa settimana si riunirà in Consiglio regionale l'Assemblea del Forum regionale dei giovani per eleggere il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, il Tesoriere, il Segretario organizzativo e il Presidente dell'Assemblea. I lavori saranno presiduti dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Olivero. Questa settimana si riuniranno in seduta congiunta la settima Commissione Consiliare Permanente e la ottava Commissione Consiliare Permanente presidute rispettivamente da Giovanni Zandini e Francesco Emilio Borrelli per affrontare le problematiche relative alla riserva naturale statale di Vivara. Questa settimana il Consiglio regionale si riunirà per il Question Time. Tra le interrogazioni che sono state presentate e che verranno discusse c'è quella del Consigliere di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli sulla situazione di pronto soccorso in Campania, quella della Presidente della Commissione Politica e Sociali Bruna Fiola sul tema dei punti nascita e della situazione dei consultori in Campania ed inoltre quella del Consigliere del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, sulla stabilizzazione del personale medico assunto durante il Covid-19. Ed è tutto per filo diretto con il Consiglio regionale della Campania. Arrivederci al prossimo appuntamento.